Sabato prossimo, 18 dicembre, il Convento del Carmine accoglierà la musica e la parola di Tu che è mortal non sei, un viaggio teatrale e un omaggio musicale alla luna che ha così tanti ispiratori, uomini e donne di ogni generazione. L'ensemble sarà formato dai musicisti Emanuele Monaco, Vincenzo Pavone e dall'attore Giovanni Pelligra. Il nostro direttore responsabile, Piero Giunta, ha intervistato l'attore Giovanni Pelligra. Ascoltiamo. Giovanni, com'è nata l'idea di questo spettacolo, ricordiamolo, Tu che è mortal non sei? Tutto nasce dalla testa e soprattutto dal cuore di un giovane ispicese, Emanuele Monaco, un musicista innamorato dello strumento che suona e che insegna, che è il flauto, un ragazzo interapprendente, molto fresco e pieno di belle idee, un cultore del bello. Mi chiama un giorno a novembre e mi fa questa proposta di fare qualcosa insieme a me e insieme ad altri suoi colleghi, qualcosa che unisca la poesia, le belle lettere, ecco, con la buona musica, in vista appunto del prossimo Natale. E così, parlando, conversando e incontrandoci, ci siamo, come dire, infiammati, ambedue. Mi ha trasmesso questo suo entusiasmo particolare e non ho saputo e non ho potuto dirgli di no. E quindi da questi confronti che abbiamo avuto il mese scorso è nata l'idea di questo spettacolo, Tu che è mortal non sei? Una performance che nasce appunto dall'incontro di tre artisti, perché no? Emanuele, flautista, un suo collega e amico, Vincenzo Pavone, un musicista di talento, nonché docente di pianoforte ad Ispiga, in una scuola media. E poi io, Giovanni Penigra, che dovrebbe essere di questo ensemble, l'esperto, tra virgolette, per non trovare una parola migliore di questa, l'esperto della parola. Tu che è mortal non sei, nasce appunto dall'incontro di queste tre persone, ne è nata subito una bella intesa. Ecco, Giovanni, come si incontreranno queste due arti in questa vostra performance? C'è da dire subito, innanzitutto, Tu che è mortal non sei, nasce quindi come un omaggio alla luna. Alla luna, questa luce notturna che investe la terra, la luna che ha ispirato poeti, ha ispirato scrittori, la luna che ha commosso intere generazioni di uomini, la luna che è simbolo di tante cose, è appunto un omaggio commosso, un omaggio riconoscente a questo astro che ha della magia e che ha sempre incantato l'uomo. La luna che ha un rapporto particolare con la terra, perché nasce, diciamo, da una costola della terra, secondo certe teorie e spiegazioni astronomiche, quindi che ha molto in comune con la terra. da questo legame siamo stati suggestionati e poi da tutta una letteratura che ha per oggetto e per soggetto la luna anche e da tanta musica che è stata ispirata e si ispira al mondo degli astri nasce appunto Tu che è mortal non sei. Come si incontrano queste arti? Il teatro nasce insieme alla musica, il teatro nasce in ambito sacro e la musica è uno dei linguaggi primitivi, principali e fondamentali dell'espressione del sacro, del culto e quindi anche dell'arte sacra prima del teatro. quindi già un legame c'era ed era consolidato. L'amalgama di queste arti si è sviluppato in questo modo, ci siamo lasciati come dire, ispirare e suggerire le idee giuste dalle parole stesse, dal testo stesso e quindi abbiamo allestito insieme provando e riprovando tappeti musicali ad hoc, intermezzi musicali traendo dalla letteratura musicale sia classica sia classica e non solo ma anche improvvisando soprattutto brani, melodie che potessero fare da cornice alla parola ai testi e potessero soprattutto evocare quelle atmosfere suggerite dalla narrazione confidando sul fatto che la parola ha un suo potere magico e la parola prima di essere ascoltata viene vista perché fa apparire dei mondi che nella realtà quotidiana sono come dire velati e aspettano che qualcuno attraverso l'arte e il potere della parola attraverso il linguaggio e l'arte della musica li possa scoprire mostrare a chi ha occhi e orecchie per poterlo fare Giovanni ricordiamo l'appuntamento e tutte le informazioni utili bene allora vi aspettiamo io Emmanuel Monaco e Vincenzo Pavone ad Ispica al Convento del Carmine il 18 dicembre sabato prossimo alle 19.30 per Tu che mortal non sei uno spettacolo di musica e parola in omaggio alla Luna i posti sono limitati per i motivi che sappiamo e quindi per poter partecipare a questa esperienza intima occorre chiamare o scrivere ai numeri che trovate nella pagina Facebook dell'evento o sulle nostre locandine i numeri sono 334 8231 291 oppure 331 866 0232 grazie Giovanni ringrazio Giovanni Peligra Piero Giunta per Radio Dimensione Musica 3013 donuts 22 23 Grazie.